Dunque, dopo il primo utilizzo, ovvero da dopo ieri sera fino ad adesso, ieri era tipo a tre quarti la batteria, ovviamente l'ho usato veramente un macello perché sono stato a installare, ripristinare e fare un sacco di cose di un iPhone totalmente nuovo, l'iPhone è al 5%, quindi è arrivata l'ora della prima ricarica, e soprattutto la prima ricarica con il MagSafe. Questa custodia qua è originale Apple, quindi Clear Case, ha quindi la compatibilità con gli accessori MagSafe. Questi sono gli accessori che io ho acquistato, il MagSafe Charger, che non è nient'altro che il magnete che andrà applicato dietro all'iPhone per caricarlo, e il Power Adapter da 20W, quindi l'accoppiata, questo più questo, consentiranno all'iPhone di arrivare al 50% con una velocità di ricarica ultra rapida. Per la prima ricarica vado a fare la prima prova, poi andrò a ricaricarlo secondo altri test, quindi con solo il MagSafe Charger e un alimentatore di un altro vattaggio, oppure direttamente con solo il Power Adapter e il cavetto in dotazione, quindi Lighting USB-C. Andiamo quindi a fare la prima prova utilizzando questi due prodotti insieme. Vado quindi a collegare l'alimentatore alla corrente e ad aprire il MagSafe Charger, questo cavetto particolare. Questo qua va aperto da entrambi i lati, molto bella tra l'altro la scritta qua davanti, designed by Apple in California, la solita che troviamo sempre ovunque in tutti i prodotti della Apple. Il MagSafe è di metallo, satinato, opaco, dall'altra parte invece è gommoso, molto più delicato, questo per non graffiare il proprio iPhone o il case utilizzato. Una volta applicato, visto che il cavo è scollegato, non succede niente. L'alimentatore è ora collegato, andiamo a vedere cosa succede all'iPhone una volta attaccato. È partita la ricarica, la schermata ha mostrato un'animazione che è la stessa dell'Apple Watch, quando si applica appunto il magnete per caricarlo, sono alle 16.40 e siamo al 5%. Andiamo a vedere... adesso è addirittura sceso. Questa cosa è alquanto strana, prima era il 5% adesso è al 3%. Andiamo a vedere tra un po' di tempo a che percentuale arriviamo. Nel mentre vi mostro qua le modalità delle varie prove che io andrò a fare, questa qui è un'altra, quindi utilizzando il cavetto in dotazione e questo alimentatore si otterrà una ricarica, quindi ad un certo tipo di velocità. Questa qua, con il MagSafe e il caricatore, che è la prova che sto facendo adesso, con cui si ottiene la velocità massima. E poi l'ultima prova sarà quella di utilizzare il cavo in dotazione dell'iPhone e un alimentatore come quelli utilizzati in precedenza, come per esempio questo qua, della OK, che fornisce 2,4A massimo per ogni porta e ha la quick charge in questo connettore. Sono le 16.52, quindi sono passati appena 12 minuti e siamo al 17% di carica. Non è per niente male, adesso aspettiamo di vedere che cosa raggiunge quando è passata mezz'ora dall'inizio della ricarica per avere una stima. Bene, sono le 17.10 ed è passata mezz'ora dall'inizio della ricarica. La percentuale mostrata è 28%, 30% in mezz'ora non mi sembra così velocissima come annunciato. Ovviamente farò altre prove con solo il cavetto, l'alimentatore e quest'altro alimentatore quick charge della OK e comparerò un po' i risultati per capire quanto è realmente veloce l'uno piuttosto che l'altro. Sono alle 19.37, avevo iniziato la ricarica con l'inizio della registrazione, quindi alle 17.40 e devo dire che è passato parecchio tempo, ma l'iPhone segna 97%. Ho sentito anche il supporto Apple perché già prima comunque le tempistiche non erano corrette per la fast charge e gli ho riassunto la situazione, quindi ho utilizzato il nuovo power adapter, il MagSafe e l'iPhone 12 Pro e hanno riconosciuto che un problema c'è però bisogna un attimo capire. Hanno fatto dei controlli da remoto e hanno verificato che il problema non è nell'iPhone nel senso che la batteria sembra a posto, non ha nessun problema mentre è da verificare il corretto funzionamento del MagSafe e del Power Adapter quindi la successiva prova sarà quella di usare solo il Power Adapter con il cavetto non questo qui, quindi il MagSafe ma questo attaccato direttamente all'USB-C. Un'altra cosa che mi hanno fatto verificare è che nella batteria, opzione della batteria salute della batteria, questo flag deve essere attivo perché l'ottimizzazione della carica della batteria è praticamente l'abilitazione del fast charge. Ora devo essere sincero farò queste altre prove, quindi solo con il Power Adapter e il cavo e successivamente proverò altri alimentatori con il MagSafe per vedere a che velocità carica dall'iPhone ma voglio anche provare su una presa diretta di casa perché io praticamente adesso ho collegato l'alimentatore a una prolunga che va in una ciabatta che probabilmente ci sono dei problemi elettrici perché anche l'iPad con un altro alimentatore, quello Aukey che avevo poco fa non sta caricando, quindi evidentemente il problema non è dell'iPhone però il dubbio rimane perciò io vado avanti a fare prove e test e verificare che il problema non sia nessuno dei due è riuscire a provare quant'è veloce questa fast charge del nuovo iPhone 12 Pro per questo video io vi saluto, speravo di poter mostrare la funzionalità della ricarica rapida funzionante e invece per me è non un anamente, ma una sorta di indagine per capire dove sta la problematica quindi seguitemi per futuri aggiornamenti per poter verificare gli altri test io vi saluto e ci vediamo al prossimo video sperando di mostrarvi la ricarica rapida ciao ciao